ragazzi buongiorno e benvenuti a una nuova puntata del let's play di life is strange oggi è probabilmente l'ultima puntata perché finiamo il gioco siamo nel bel mezzo di un tornado che sarà e dobbiamo andare al pub questo non vuole morire qua per cercare la fotografia di warren i have to help everybody i can thank you once I get the hell out of the way what's the company is done you need a lift no thanks devo trovare un amico vieni ragazzi non abbiamo mai risposto a qualcosa vediamo Vittoria che dice niente Daniel ah Daniel è contento perché è stato con Brooke tutta la sera e Joyce ci chiude se abbiamo visto Chloe Chloe è morta qua ci stava secondo me ci stava la signora la senza tetto aspetta andiamo a vedere beh non ho manco capito dove sta il dinner il dinner sta là forse questa è morta ok da qua non ci passa dovrebbe saltare che succede ciao Aiman come va hai visto It Takes Two ha vinto il Game Awards è bello quel gioco qua dobbiamo fare la fotografia la banana incendiata è la macchina sul ponte ma forse abbiamo passato da quest'altra parte è morto Evan ma come facciamo a impedire che si faccia male comunque It Takes Two è veramente bellissimo come facciamo a impedire che Io non voglio morire qui! Ho visto anche il trailer in italiano che è uscito su YouTube di Ubisoft Questa è la volta che mi compro la Playstation Comunque vediamo e concentriamoci sul gioco Ma perchè abbiamo salvato Alissa per tutto il gioco? Secondo me è la quinta volta che la salviamo Ok Non è che da qua si può andare Non si può andare L'Odemy non ci fa nemmeno proprio salire Ah no ci fa salire Però la trave non c'è più E quindi Non possiamo fare più niente Ragazzi l'unica cosa Però No E dobbiamo trovare quella la senza tetto E poi Questa balena Questa balena Perfetto 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 E ragazzi mi sa che è qua Ah no aspetta ma Non mi faili Fusebox E' facilissimo Adesso muore il pescatore E' morto Però noi intanto riusciamo a passare Questo pezzo qua E poi riavvolgiamo il tempo Così il pescatore non muore E noi non attacchiamo l'elettricità Ok Andiamo a questo Come on Tu devi andare fuori da qui Adesso Ne ho bisogno di respirare Ne ho bisogno di Eric This can't be the end Questa non può essere la fine Del gioco è sicuramente la fine E ma non possiamo più uscire Usiamo la scatola dei fusibili Che casino Adesso è ancora un'altra balena Forse è questa la balena O quella Se torniamo indietro nel tempo Non siamo più vicini Quindi forse possiamo evitare Che esplode tutto il diner Vediamo che dice Max No eh Sabbia Questa è la sabbia Un poco di sabbia Abbiamo salvato tutto qua Oh questa è la foto ragazzi Finalmente Questo ci facciamo anche il thumbnail Probabilmente Ok Guarda che ci dice Guarda che ci dice Guarda che ci dice Questo tornado Può essere l'endolo del mondo Ah perché vedete Il nostro diario È tutto bruciato Perché ora ce l'ha bruciato Quell'altro Oggetto Dobbiamo fare la fotografia E la macchina Sopra il palazzo Eccola là Ok da qua E dobbiamo andare anche Dalla senza tetto Prima Che secondo me è importante Comunque Samuel pure Secondo me è importante Però Posso Dalla senza tetto Oh Non è qui Spero Che sia in una scelta Vediamo che altro Dobbiamo prendere più Chloe Price Forever E chi l'ha scritto quello Perché nessuno sa Che Chloe è morta Vediamo 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 Questa è non una scelta Non è una scelta Questa non si può Non è un scelta in fronte F-22 Si l'ha scelta Per l'arcaudio E il palazzo La scelta La scelta Crea Mi Vediamo Sto cercando di sbagliare come. Spero... Guarda lui, Julian. Qui c'è la porta, il cuore aperto non si passa. Apriamo qua dentro. Sicuramente troviamo Warren e Joyce. Cora Frank? Il cane? Pampaloo, come si chiamava lui. Oh, Gesù. Sono molto felice di vincereci, amore. Sei ok? Sì. E cosa per voi? I due voli non stanno in grado. Non lo so se avrà avuto questo tornado. Pagano. Pagano Officer Barry e tutte quelle persone... I know. Ok, vissi dentro. Ho bisogno di tornare a questo ragazzo. Warren ha fatto chiamare tutti i primi aiutati. Non è molto, Joyce. Ma è tutto che abbiamo. Sei ok, Warren? Ma come ho ignorato tutti quei warni, Max? Il snow, l'eclipso... Non c'è nulla che puoi fare, Warren. Sono così stupido. dovrebbe aver visto venire. Sono molto felice di tutti qui. Ma ho bisogno di questa foto di Warren per aiutare Chloe. Scusate. Non c'è più musica. No, no. Sono solo... La partita è finita. Questa vortex... è molto più grande. È molto difficile credere che le persone stavano, comincieremo la giardina qui. Ah, qua ci potrebbe essere Chloe Forever, eh. Eccolo qua... Pompidou. Almeno Frank ancora ha Pompidou a sua parte. Max... Giavi un momento per non fare nulla. No. E ora... Potrei stoprire Chloe da morire. Per l'ultima volta. Vedi qualcosa, Max? Secondo me non vede niente. Pure questa qua sarebbe bella come la fotografia del thumbnail. Comunque la grafica è molto... Cioè pure se sembra molto schifida. E non realistica. Lo stile della grafica è... Fatto estremamente bene. Almeno a me piace. Questo non è l'ora che voglio morire. Buon lavoro Warren. Ho spero che queste servizioni abbiano sufficienti. Ragazzi, Chloe Forever non l'abbiamo trovato. Ok, vediamo Frank che dice, va. Parliamo prima con Joyce. Veramente. Ah, la troverò. Io... La troverò. Non in questo storm non lo vedi. E non ti andi a andare fuori, Max. Solo devo chiedere che Chloe... e David... che ci siano qualcuno di sicuro. Mi sconti per tutto questo, Joyce. Non so, honey. Non è come che hai fatto questo tornado di proprio. E... E... Mi sconti per tutto con David. Non hai controllo di nessun altro. Davide è un adulto. E ha molto più age e esperienza sotto il suo belto. E se non lo mostrerà... Quindi, diciamo, tempesta perfetta. Lo so. Mi sento proprio che... tutto ciò che sta succedendo con noi è la storia perfetta per l'Arcadia Bay. E' proprio... voglio che le nostre vidi essere ancora normali. Con tutto ciò che sta succedendo questa settimana credo che sei certo. E guardami, cercando di mantenere la mia famiglia insieme. E... Max... Ho fatto un errore per scendere a David fuori? Diciamo che abbia bisogno di te. David ha salvato la mia vita... ... 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